eccoci e bentornati sul mio canale ieri sera è stato rilasciato il trailer ufficiale della beta di destiny 2 che come sapete arriverà il 18 di luglio beta anticipata quindi il 18 luglio open beta 21 luglio potremo affrontare la prima missione della campagna di destiny 2 sconfiggere i nemici dell'umanità nell'assalto a tre giocatori la spirale invertita e addirittura cimentarci in due modalità multi giocatori competitive dal 18 al 20 luglio potremmo giocarla su ps4 dal 19 al 20 luglio su xbox one il periodo della beta aperta per tutte le console andrà dal 21 al 24 di luglio accesso anticipato e beta aperta per pc previsti ad agosto fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e se avete prenotato il gioco e noi ci vediamo con tanti nuovi video